e ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video vi ricordo innanzitutto di iscrivervi al canale qua da qualche parte sotto perché presto riusciremo a ritornare in sella e a fare video in moto comunque niente oggi vi voglio presentare il mio top 5 delle maxi enduro stradali o comunque ideali per viaggiare e quindi partiamo subito con la classifica delle top 5 maxi enduro mia personale quindi in quinta posizione ho messo come vedete dallo schermo la suzuki v strong 1050 una moto secondo me molto accantivante soprattutto a livello estetico alle linee un po diciamo retro stile parigi dakar una moto che costa di listino 14.590 euro con 107 cavalli una moto molto buona comunque sta sta anche alla nuova normativa euro 5 quindi io credo che sia una moto molto valida per i tour che non disdegna neanche magari le strade bianche quindi moto che si merita per me la quinta posizione in questa classifica passiamo alla quarta posizione che andiamo in casa yamaha in quarta posizione ho voluto mettere la super tenere 1200 anche qua un prezzo di 14.690 euro circa modello base una moto con un motore appunto di 1200 di cilindrata con 112 cavalli una moto sicuramente molto molto buona comunque con un prezzo a mio avviso accessibile non troppo elevato che comunque può permettere dei viaggi davvero importanti anche questa comunque può permettere di percorrere strade bianche anche abbastanza agevolmente quindi promossa in quarta posizione in terza posizione eccoci qua la non l'ho voluta mettere più su per un solo motivo ovvero il prezzo però comunque una moto così davvero una tra le migliori a mio avviso visto comunque tanti ce l'hanno però un prezzo così elevato di quasi 20 mila euro se uno deve un po guardare tra tante moto sicuramente andare su una moto del genere ci pensa un po' se non ha disponibilità enormi di budget però comunque sicuramente è una delle moto migliori per quanto riguarda i viaggi ovvero l'r 1250 gs ho voluto prendere l'avventure se andate a prendere l'r 1250 gs normale costa qualcosa di meno però magari a livello di sterrato poi ne va a soffrire una moto che presenta un motore che arriva a 136 cavalli è un motore 1250 e il prezzo è appunto su del modello base di quasi 20 mila euro se poi vogliamo aggiungere borse mica borse andiamo anche a 23 mila quindi una moto che costa alquanto non poco andiamo in seconda posizione in seconda posizione ho voluto mettere questa moto secondo me spettacolare molto bella ovvero la ktm 1290 super adventure r c'è anche la versione s che costa un pelino di meno però questa qua è un po più per i fuoristrada cioè è un po più lavorata per i fuoristrada ma va da dio anche su strada un prezzo di 18.650 e a 160 cavalli tra le moto che vi ho presentato è la moto che ha più potenza più cavalli 160 cavalli davvero una una bestia e devo dire che sicuramente per le per gli amanti del viaggio questa qua penso che sia davvero la moto ideale per viaggiare in qualunque situazione passiamo alla prima posizione è una prima posizione più che data caratteristiche tecniche ma comunque anche per le caratteristiche è molto di cuore visto che è la mia moto preferita è quella che magari un domani vorrei prendere ovvero l'africa twin qua vi ho messo la versione base Africa twin 1100 di cilindrata con 102 cavalli e un prezzo di listino della versione base di 15.000 euro secondo me è una moto davvero che ha tutto quello che si può chiedere una moto da turismo va molto bene su strada si può fare degli ottimi sterrati quindi io diciamo che a livello qualità prezzo la metterei davvero in primissima posizione che se andiamo a vedere magari ha un allestimento molto molto bello tipo questo che desert track con le borse laterali e la valigia posteriore in alluminio con anche la borsa serbatoio andiamo a 18.000 euro che è diciamo un prezzo più basso della bmw più basso addirittura dalla ktm quindi secondo me questa versione è proprio il cento per cento ideale per almeno la mia visione per almeno quello che cerco in una moto quindi in prima posizione tutta la vita Africa twin io spero che questo video vi sia potuto interessare vi ricordo ancora di iscrivervi al canale e di aspettare presto che usciremo in moto da domani oggi è domenica 18 da domani cioè oggi è domenica 17 da domani si potrà eh ricominciare ad uscire almeno nella propria regione io abito in Lombardia ho la fortuna di avere laghi montagne quindi posso un po' sbizzarrirmi su dove andare quindi diciamo che qua finisce questo video e alla prossima ciao 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 ciao